Innanzitutto grazie per l'invito e vi assicuro che leggere quello che fate e guardarlo raccontato dai ragazzi, dai tutor, dalle aziende che partecipano a questa progettualità fa tutto un altro effetto, perché guardare le slide, le attività che avete svolto in questi anni, soprattutto nel settore dell'IT, è importante. Io, come hai raccontato prima, conosco la residenza da tanto tempo, non faceva queste attività, era una residenza, faceva il supporto, c'erano dei tutor, io ho fatto il tutor di due ragazzi per gli esami di analisi, analisi 1 e fisica, mi avvicinai alla residenza che stava ancora in via Roberto da Bari, si chiamava Della Nave, credo. Io l'ho frequentata dal 74-75, l'ho conosciuta grazie al professore Civitella, che saluta tutti quanti, non è potuto venire perché sta in condizioni malandate. Lui mi ha avvicinato alla residenza, mentre studiavo, ho fatto gli esami con lui, ho lavorato con lui per diverso tempo, in quel periodo ho fatto la tesi, infatti quando ho visto l'incidentistica stradale con i pallini, i flussi, mi ha ricordato la mia tesi di laurea, che poi mi ha permesso di fare, credo che quella tesi, sicuramente mi ha portato all'impegno politico e poi a fare il sindaco, perché ho fatto una tesi sull'itinerario di scorrimento del traffico urbano, analisi dell'itinerario di scorrimento del traffico urbano e l'allora sindaco di Bari, Emiliano, appena eletto, mi chiamo per fare l'assessore tecnico, io non ero stato eletto, non ero nemmeno candidato. Quindi ragazzi, tra di voi c'è il nuovo sindaco? Qualcuno potrà fare il sindaco, me lo auguro, quando vado dove si fa la formazione, spero sempre di trovare qualcuno che si vuole impegnare in politica, che è una bella cosa, perché la politica poi aiuta la propria comunità ad emanciparsi, a crescere dal punto di vista economico e sociale e questa attività che fate è un'attività importante. Mi sarebbe piaciuto restare e vedere gli altri progetti, purtroppo o per fortuna, questa è una giornata di inaugurazione, ho inaugurato prima di venire qui l'Expo Levante, una delle manifestazioni più importanti della fiera, che testimonia comunque di stare al passo con i tempi. Oggi è l'inaugurazione dell'Expo e la manifestazione che si occupa delle attività sportive, del benessere, del tempo libero, con una giornata come questa non poteva essere inaugurata in maniera diversa. Ecco, è una bella giornata dove tutti stamattina facevano un'attività fisica sul lungomare e vogliono godere dello spazio, del proprio tempo libero. Subito dopo, a proposito di tempo libero e spazio, adesso, uscendo di qui, devo andare a inaugurare Torre Quetta, che è la spiaggia pubblica, cittadina, gratuita, ovviamente si pagano i servizi che affidiamo all'esterno, però tutto il resto è pubblico, è gratuito, e la riapriamo oggi con la stagione primavere ed estiva. Fate un lavoro importante perché accompagnare la formazione, facendo una formazione specializzata insieme alle aziende, credo rappresenta un po' il futuro delle nostre comunità e soprattutto dei giovani. Il mio auspicio è che anche voi, soprattutto nel settore di cui avete discusso stamattina, possiate decidere di andare a lavorare fuori se lo fate per scelta, non è più un obbligo. Ci sono dei settori nella nostra città, nella nostra terra, dove un ragazzo può scegliere di andare a lavorare fuori, non è un obbligo, non è stato sempre così. Quando mi sono laureato io era complicato, c'erano pochi posti di lavoro. Oggi in alcuni settori è il settore dell'IT che avete citato più volte, è uno di quei settori, è iniziato con due aziende pugliesi, quella di Morfetta, Expria, che è un'azienda storica del nostro territorio, poi c'è un'altra azienda proprio a qualche decina di metri da qui che si occupa dei lettori delle carte di credito, nei post, nelle strutture ai distributori di carburante. Ed erano le uniche due aziende importanti che si occupavano di questo settore. Oggi sono cresciute piccole aziende locali, sono diventate grandi, ma arrivano le multinazionali. Siamo di fronte a un fenomeno incredibile, non arrivano multinazionali da tutte le parti del mondo, dal Giappone, dagli Stati Uniti, NTT Data, Pirelli. Ecco, Pirelli sta valutando anche di entrare nella partnership. All'interno dell'attività di formazione che fate qui, ce ne sono tante. La Fincons è stata la prima azienda di quelle grandi che ha deciso di trasferirsi qui. Il Dottor Moretti all'epoca mi disse, guarda, io faccio una scelta di stare qui perché normalmente prendo ragazzi che vengono dal sud del nostro paese, molti vengono dal Politecnico di Bari. Noi li formiamo, vengono a lavorare per noi, avevo un'azienda in Svizzera e una a Milano, e poi però buona parte di loro decide, magari guadagnando anche di meno, di andare a lavorare nelle aziende più piccole, con meno prospettive di carriera, pur di tornare nel loro luogo di origine, dove hanno relazioni familiari, amicali, dove magari si vive anche meglio, è più basso il costo della vita. E quindi a quel punto mi disse, decido di tornare giù e apro l'azienda giù. Oggi quell'azienda ha avuto una capacità assunzionale incredibile, ci lavorano quasi mille persone, ma se le sommiamo tutte, le aziende che sono arrivate qui, è di oggi la notizia dell'insediamento nel centro storico di un'altra azienda che si occupa dello stesso settore, nel settore dell'IT siamo arrivati a capacità assunzionale di 6.500 dipendenti, motivo per il quale molti di questi ragazzi che ho ascoltato oggi, anche io, direttamente, cominciano a lavorare mentre stanno studiando, mentre stanno facendo gli ultimi due anni di università. La Lutec è un esempio e mi entrerà anche se nel Consorzato. La Lutec è venuta a trovarci qualche tempo fa, ma sono in tutto le aziende, ciao, in tutto le aziende sono 16, 17 con quella di stamattina, che si sono insediate nel nostro territorio con davvero una straordinaria potenzialità dal punto di vista delle opportunità di lavoro. Se vogliamo fare un paragone, i dipendenti che lavorano nell'area di sviluppo industriale, quelli diretti e quelli indiretti nella zona di Bari, sono 12.000 persone. Quindi nel settore dell'IT, nel giro di due anni, tre anni, sono arrivate aziende che permettono di assumere la metà della forza lavoro dell'area di sviluppo industriale di Bari. Credo sia un risultato straordinario. Come è potuto succedere? Sicuramente perché ci sono le università, perché tutti, tutti, tutti quelli che sono venuti qui, quando incontrano il sinneco nella sua stanza, dicono che il motivo principale è legato all'università e al Politecnico e alla relazione che si crea, le attività che fanno di sperimentazione, le attività di ricerca, la possibilità di informare gli studenti, che poi sono gli studenti che andranno a lavorare da loro. Quindi sicuramente il valore aggiunto è legato, il nodo della nostra terra è legato all'attività che viene fatta di formazione e di ricerca dal Politecnico, dall'Università degli Studi di Bari, dalla LUM. Questo è un vantaggio sicuro per tutti noi, per questo dobbiamo continuare a investire sulle nostre università. E poi ci sono anche le condizioni di vita. Tante persone vengono qui perché qui si vive bene. Abbiamo avuto anche una buona dose di fortuna, non lo nascondo perché non è normale che nel giro di pochissimi anni arrivino tante aziende contemporaneamente da più parti del mondo. La nostra città diventa un punto di riferimento anche dal punto di vista turistico. Io nove anni fa dovevo chiedere la cortesia a bar e ristoranti del centro cittadino nel periodo estivo di stare chiusi almeno una settimana ogni due mesi perché chiudevano tutti. Non c'era la possibilità nemmeno di comprare una bottiglietta dell'acqua oggi siamo invasi da turisti. Dipende dalle redazioni che si sono create anche tra le istituzioni, la regione che ha voluto investire tanto sui voli low cost, sulle attività, ma anche queste aziende che stanno arrivando nel settore dell'informatica. Sono aziende che poi cerchiamo di intercettare e alle quali offriamo anche gli strumenti che sono a disposizione oggi dai finanziamenti di Puglia Sviluppo a un'attività che stiamo facendo come comune in collaborazione con la regione, le università, l'Asi, Mediocredito Centrale, Puglia Sviluppo, Invitalia. Quante me ne sono scordate Eugenio che ogni volta quando finiamo mi rimprovera che mi sono scordato qualcuno. L'abbiamo chiamato Stop Shop Invest in Bari. è uno strumento che permette di andare a fare scouting in giro nel mondo per avvicinare le aziende alla nostra realtà e farle insediare qui, avendo un unico interlocutore senza dover girare tutto il territorio. Arrivano qui, sanno quali sono i suoli o gli edifici nella zona industriale a disposizione, conoscono direttamente le realtà di ricerca universitaria, hanno la possibilità di capire anche gli strumenti finanziari, quelli a fondo perduto come Puglia Sviluppo che ha aiutato tante aziende a insediarsi qui o Invitalia che è l'agenzia nazionale, ma anche degli affidamenti creditizi a tasso agevolato come fa Mediocredito. Questo credo debbano fare le istituzioni cercando di lavorare in squadra, in sinergia, soprattutto guardando alle nuove generazioni perché noi ormai siamo andati, non dico a fine corsa, però abbiamo un ruolo, certo, però è su di voi che dobbiamo investire. Quando ho deciso le partnership per il piano strategico dell'area metropolitana di Bari con i 41 sindaci dell'area metropolitana abbiamo deciso di aprire una parte importante della pianificazione ai ragazzi under 30 perché il piano è a 20 anni, io ce ne ho poco più di 50, tra 20 anni non so nemmeno se ci sono, spero di sì, ci avrò più di 70 anni, però credo che sia giusto che siano i giovani a costruirsi il loro futuro perché rappresentate davvero, non soltanto il futuro, da quello che ho visto oggi, rappresentate l'attualità, il presente per tutti noi. Le persone che sono venute qui non sono venute a farvi dei sermoni perché come diceva un vecchio Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, diceva che i giovani non hanno bisogno di sermoni, hanno bisogno di buoni esempi, esempi di onestà, di competenza e soprattutto di coerenza. Vi auguro una buona fortuna a tutti. Le aziende in questo modo consentono a ragazzi che non hanno disponibilità economica di vivere in un collegio come questo. Perché le borse di studio che danno… Sia le borse di studio, sia le aziende che investono per fare formazione attiva, mettendo a disposizione magari i loro macchinari, anche dei docenti, dei formatori, dei tutor che accompagnano questi ragazzi verso una specializzazione, la professionalità, credo sia uno degli elementi cardine più importanti di questa… Luigi ha preparato, Luigi è quello che si occupa di più della stampante 3D, come avete visto prima in laboratorio, ha preparato un piccolissimo regalo, che è un… Grazie. Un portatelefono con lo stemma del Comune di Bari e uno di Poggio Levante. E poi la scritta di Poggio Levante. è stato… Grazie, lo metterò sulla mia scrivania, così non devo stare col telefonino in mano quando facciamo le videoconferenze. Grazie, grazie davvero. Buona fortuna alla Residenza, buona fortuna ai ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.